il libro te lo facciamo e pubblichiamo noi a dio dio quanta bontà beh c'è proprio scritto così è il libro te lo facciamo e pubblichiamo noi sì sì c'è proprio scritto così il fatto è che un carissimo amico mi manda la notizia la notizia io questa notizia ve la metto come l'ignor riassunto di questo video non faccio il nome di questo carissimo amico egli mi conosce molto bene io conosco molto bene lui ma per motivi di privacy non faccio il suo nome sarà lui stesso semmai a commentare e a dire sì sì sono stato io che ti ho mandato la notizia beh la notizia riguarda un sito un sito un sito di editoria manoscritti e book editoria e pubblicazione io vi metto tutto come link il libro te lo facciamo e pubblichiamo noi inviaci il tuo manoscritto inviaci il tuo manoscritto e poi si scrive un testo poco professionale sgrammaticato con una copertina fatta col copia incolla è destinato a perdersi negli scaffali delle librerie un'opera priva di edit un'opera priva di editing e delle correzioni non vende non vende e stimola le recensioni negative e ci sono poi gli editori ci sono gli editori i quali non pubblicano manoscritti non editati gli editori quelli potenti non pubblicano dei manoscritti che non siano già stati pubblicati non editati rabberciati sgrammaticati con errori sviste o altro prima di inviare un testo a una casa editrici chiedi la consulenza di un professionista dell'editoria il fai da te non paga ed è normale che sia così bellissimo bellissimo che bello il libro te lo facciamo e pubblichiamo noi qua ci sono tutte le informazioni di questo mondo ma non si parla dei costi non si parla dei costi e eppure i costi ci sono è ci sono i costi se voi fate una prova e andate su questa notizia e chiedete 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 in che maniera il libro te lo facciamo e pubblichiamo noi chiedete chiedete chiedere è permesso chiedere va bene va bene il nostro è un popolo di poeti si un popolo di scrittori ma 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 lo fece scolpire nel duro marmo il duce il duce all'euro la roma roma nel quartiere esposizione universale romana c'è scritto ancora un popolo di poeti di santi di navigatori di scienziati però numero al numero uno poeti i poeti i poeti e c'è su youtube un mio antichissimo video un mio antichissimo video è molto visualizzato questo mio antichissimo video molto visualizzato è intitolato non toccatemi poeti si 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 su youtube siccome il duce fece scolpire nel duro marmo di un grande palazzo a roma relativamente agli italiani fece scolpire un popolo di poeti di santi di navigatori c'è un mio video su youtube intitolato non toccatemi i poeti eh sì è che situazione pensare che io ho dovuto tribolare tanto eh per scrivere queste opere per vederle pubblicate queste opere a quanto tribolato quanto tribolato quanto ho dovuto tribolare per vedere pubblicate queste opere perché è più facile che una casa editrice la grande casa editrice pubblichi un libro si fa per dire un libro di di una subrette televisiva o di un calciatore o di un attore e piuttosto che il libro di una di una persona qualsiasi che magari alla scrittura del libro ha dedicato anni e anni e anni e il mondo è fatto così il mondo è fatto così beh caro amico che non ti nomino io ti ringrazio tu lo sai come stanno le cose a questo mondo lo sai non faccio il tuo nome caro amico sarai tu sarai tu e eventualmente a dire sì sì serafino massoni te lo dà da io questa notizia sì un popolo di un popolo di poeti e di scrittori tutti col manoscritto nel cassetto però c'è c'è un romanzo c'è un romanzo di Umberto Eco intitolato il pendolo di Foucault il pendolo di Foucault tutto dedicato agli asp acronimo asp a apps api acronimo autori proprie spese cioè autori autori che pubblicano i libri pagando 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 case editrici case editrici si fa per dire si fa per dire Umberto Eco il pendolo di Foucault e di Umberto Eco parla per l'appunto di milioni milioni di milioni di apps autori proprie spese e parla anche di questi editori che vivono sulle umane vanità di milioni 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 di poeti e romanzieri io con molta fatica con molta fatica ho pubblicato le mie opere con buoni editori e questa è la mia ultima opera vedete stata pubblicata nel dicembre del 2019 e che devo dire che ora vola nelle librerie ma che fatica che fatica che fatica quando si è dei semplici outsider perché io in fin di conti non sono nessuno sono stato semplicemente professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici e poi preside di ruolo sempre nei licei classici e scientifici ma per le grandi potenti case editrici io non sono nessuno non sono un grande personaggio televisivo non sono una grande firma giornalistica non sono una bella subrette televisiva eccetera 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 ok cari amici dio che tristezza che tristezza cari amici ma quanta fatica per pubblicare queste opere va bene ok e questo è il mio ennesimo video dedicato a noi che siamo un popolo di poeti e di romanzieri a tutti tanti cari saluti